Aggiornamento dell'alloggio al pieno terra delle cantiere in classe A3 a San Paolo. Impianti finiti, sottofondo messo, gli attacchi cucina e impianto elettrico fatto. Riscaldamento del pavimento anche finito e piazzato. Tutto sottofondo fatto, tutto intorno a piaccia internamente. Primo bagno fatto, mi è che è stavato il classico 120 di altezza. Camera da letto con doppia finestra. Secondo bagno con la doccia. E finiamo nell'ultima camera, questa qua, molto grande. Con il suo spazio qua della corte, è arrivato. Quale vuole stanno andando avanti? Chi ha interesse in dubbi, domande, ci chiami, perché tra poco entrano serramenti e pavimentazione, quindi non si potrà mai riuscire a scegliere purtroppo l'acqua e stavatura. Grazie. 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 Grazie.